batte dietro dove attende Andrea De Marco Andrea De Marco cerca un varco serve ancora Stornelli in area di rigore c'è il tocco con la mano sarà calcio di rigore per la golbet calcio 8 Stornelli contro Corso Stornelli spiazza Corso riapre la gara Enrico Stornelli all'ennesimo tentativo forse l'unico modo di battere Corso era con un penalty 1 a 2 golbet